Ancora Chini è lì a ragionare a centrocampo, cerca il break, Chini se ne va, lo chiude Pontisso, Chini si gira, cerca ancora di trovare un'idea, Chini supera di netto Pontisso, poi il destro! Che gol! Che gol di Chini che ha trovato davvero l'angolo impossibile da raggiungere per Perisane e qui c'è solo da mettere giù il... Ancora Chini è lì a ragionare a centrocampo, cerca il break, Chini se ne va, lo chiude Pontisso, Chini si gira, cerca ancora di trovare un'idea, Chini supera di netto Pontisso, poi il destro! Che gol! Che gol di Chini è! Che altro...